Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È rimasto in silenzio con lo sguardo quasi assente Giovanni Padovani, come se non capisse dove si trovava. In aula è arrivato con pantaloncini fosforescenti verdi e maglietta nera. Non ha proferito parola riguardo all'omicidio della 56enne di cui si era follemente invaguito. La perseguitava, non voleva avesse altri uomini e continuava nella sua pazza ed incomprensibile gelosia. Ingiustificabile, visto che Alessandra Matteuzzi l'aveva lasciato tempo addietro. Non voleva stare sotto scacco di un uomo 30 anni più giovane di lei, che voleva limitarla nella sua vita quotidiana. Voleva essere libera e felice, come era sempre stata. In mattinata, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Giovanni Padovani non ha risposto al GIP Salvatore Romito, non ha detto mezza parola. Il PM, Domenico Ambrosino, ha chiesto convalida e carcere per l'omicidio aggravato dallo stalking. L'uomo era assistito dal suo legale, Enrico Buono. L'avvocato ha riferito che ha molto provato. Fuori dall'aula di udienza, anche la mamma di Padovani, visibilmente scossa. Nelle prossime ore è prevista l'autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi, presenti all'esame e i periti di parte. Un ragazzo tranquillo, mai visto fare una discussione, così lo descrivono alcuni titolari dei locali più in voga di Senigallia, dove il calciatore e modello tornava di tanto in tanto. Alessandra aveva paura perché il 27enne già una volta le aveva sabotato l'auto. L'uomo giocava per la San Cataldese, team siciliano che ha pubblicato un messaggio di condanna su Facebook dal testo «Condanniamo senza se, senza ma ogni volenza e femminicidio. Non riusciamo a trovare le parole per commentare i fatti che si sono verificati ieri sera a Bologna per la furia e la ferocia subita da Alessandra Matteuzzi. Ciò che proviamo in questo momento è shock e sgomento». Il 20 agosto era stato messo fuori rosa perché non si era presentato agli allenamenti. Per due anni aveva militato nelle giovanili del Napoli nel 2013, periodo in cui aveva giocato anche nell'Under 17 della Nazionale Italiana, poi in varie squadre di Serie D, tra cui il Giarra e il Troina Calcio. Ora faceva il modello e cercava di riconquistare la sua ex, per la quale aveva maturato un'insana fissazione. Finché, due giorni fa, non ha imbracciato un martello e l'ha colpita più e più volte mentre Alessandra era al telefono con la sorella. L'ha finita senza pietà, senza alcuna traccia di amore, ma solo di desiderio, di possesso e di follia.